Ciao ragazzi, volevamo ricordarvi delle proiezioni della rassegna dedicata al 25 aprile e alla resistenza che ci saranno al Pianoro Factory. Mercoledì 23 aprile alle ore 21 verrà proiettato stato d'eccezione. Il documentario affronta il processo penale di primo grado che è stato celebrato tra il febbraio del 2006 e il gennaio del 2007 sull'ecidio del Monte Sole. Sabato 26 aprile ore 21 dalla resistenza ai diritti le donne si narrano. Cinque donne narrano i loro ricordi con un'attenzione particolare all'evoluzione del ruolo della donna. Mercoledì 30 aprile ore 21 Antonio Ferroviere. Antonio Ferroviere racconta la cronaca di un infortunio sul lavoro analizzando le responsabilità sociali e il dramma umano personale del protagonista. È reso conto della crisi sociale e morale che sta attraversando il paese. Mercoledì 7 maggio ore 21 piccolo cane nero. Il viaggio di Bruno Cappagli autore ed attore di teatro alla ricerca delle storie e delle motivazioni che hanno contraddistinto la vicenda delle case del popolo. Mercoledì 14 maggio ore 21 Pancevo. Pancevo una piccola città a 15 chilometri da Belgrado è la sede di uno dei più grandi complessi industriali dell'ex Jugoslavia. Durante la guerra dei Balcani, la Nato, con il benestare dell'Europa, bombarda pesantemente questo complesso industriale causando volutamente un'enorme catastrofe ambientale. Oggi Pancevo è la città più inquinata d'Europa e muore in media un uomo al giorno. Le proiezioni si svolgeranno presso il centro giovanile Pianoro Factory in via dello Sport 2-3 a Pianoro. Se volete maggiori informazioni potete telefonare al numero 051 77 5465. Grazie. 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 Grazie.